Ragazzi, vi ricordo che dal 29 di questo mese partono gli ordini, i preordini per la nuova scatola di Warhammer Age of Sigmar, Scaven Tide, Marea di Scaven, che uscirà presso il nostro negozio sponsor Gioco Libre di Assemola, di cui trovate sempre il link in descrizione e ora vedete anche in sovimpressione. Mi raccomando, partono i preorder, iniziano dal 29 e poi i primi di luglio uscirà, quindi, Gioco Libre di Assemola come sempre ne ordinerà tantissime copie, ma assicuratevi di aver preordinato la vostra perché andrà, come vederlo, a ruba. Mi raccomando e usate sempre il codice discount Corridan 7 e anche su questa, novità della Games Workshop tanto attesa, avrete uno sconto del 7%. Andate a ordinare!